Dopo la netta presa di posizione del Comune di Alessandria contro la vendita e la distribuzione di bevande in contenitori di vetro e lattine dopo l'ora 18, contro la movida disordinata, l'abuso di alcolici e problematiche legate all'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, anche Ovada adotterà presso in tal senso provvedimenti restrittivi. Lo ha annunciato il Sindaco Paolo Lantero rispondendo ad una interrogazione presentata in Consiglio Comunale dal consigliere di Ovada Viva, Angelo Priolo, dopo gli strascichi lasciati da una vicenda che alcune settimane fa aveva visto cinque giovani poi denunciati dai carabinieri protagonisti di una rissa nella centralissima piazza 20 Settembre, mentre sono sempre più numerosi anche gli atti vandalici a danno di beni pubblici in città. Condividiamo buona parte dei temi posti dall'interrogazione, ha spiegato il primo cittadino, e nei prossimi giorni lavoreremo al testo del provvedimento. Si prevede, come ad Alessandria, una limitazione alle vendite di alcolici, di bevande in contenitore di vetro. Nella recente rissa un ragazzo era finito al pronto soccorso per una bottigliata ricevuta sulla testa. E anche una modifica dell'attuale regolamento sulla videosorveglianza. Poi il Comune interverrà attuando campagne di sensibilizzazione rivolte ai più giovani e titolari dei locali, cercando di non essere troppo punitivi nei confronti di chi lavora. Certo è che ci saranno regole da rispettare e sanzioni salate dai 500 ai 5.000 euro per chi non si adeguerà. Il sindaco ha promesso di valutare anche la richiesta del consigliere Priolo di controlli più intensi della Polizia Municipale di sera. L'ordinanza, che vedrà la luce nei prossimi giorni, avrà valore per tutta l'estate.